Vivere a Borgo Nuovo presenta alcuni problemi, da sempre. Una certa marginalità, servizi di collegamento non sempre puntuali, sicurezza lungo le strade, raccolta di rifiuti spesso lenta o a singhiozio. Ma se invece di percorrere, come abbiamo fatto questa mattina, il quartiere in auto, l'osservassimo dall'alto, noteremmo che Borgo Nuovo sorge in un punto particolare, sotto una mega discarica, quella di Belo Lampo. Un elemento non da poco, dal momento che le falde della zona sono state, anche nel recente passato, messe sotto esame per il rischio di inquinamento causato dal lago di Percolato, adesso quasi del tutto prosciugato. Disaggi anche durante l'estate di due anni fa, quando l'intera discarica venne colpita da un incendio per diversi giorni. Le polveri di diossina caddero naturalmente a valle e fu vietata la coltivazione e la raccolta di ortaggi e verdure. Adesso un nuovo allarme riguarda l'acqua per uso potabile. Dopo la segnalazione ricevuta dall'ASP sulla presenza di carica microbica dell'acqua fornita alle abitazioni, ieri sera il sindaco Leuluca Orlando ha emesso un'ordinanza con cui informa i cittadini della situazione. In sintesi, l'acqua è inquinata e in attesa che la situazione torni alla normalità e che i valori rientrano nei parametri fissati dalla legge, l'AMAP ha invitato gli utenti a non usare momentaneamente l'acqua per usi alimentari. Niente caffè e soprattutto lavaggio di alimenti come frutta e verdura con acqua corrente. A meno che l'acqua non sia stata preventivamente bollita, i tecnici stanno lavorando per individuare la fonte dell'inquinamento.